Si è svolta a termo la grande riunione dei primi cittadini per l'Assemblea regionale del Lanci, l'Associazione dei Comuni Italiani, organizzata per fare il punto sui progetti e i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quella di oggi è stata la prima assemblea in presenza per Lanci Abruzzo dopo le restrizioni degli anni passati dovute al Covid. Ospite d'onore è stato il Presidente nazionale del Lanci Antonio De Caro, primo cittadino di Bari. Storicamente i comuni sono l'investitore pubblico più importante del nostro paese, storicamente abbiamo sempre speso il 25%, un quarto, delle risorse nazionali per opere pubbliche, quindi come dico da diverso tempo fidatevi dei comuni, fidatevi degli amministratori locali. Oggi i sindaci abruzzesi si tornano a riunire dopo diverso tempo, finalmente in presenza, l'obiettivo è anche quello di fare il punto. Sì, nel periodo del Covid non si potevano fare le riunioni in presenza, sembra passato un secolo, sono passati soltanto pochi mesi, per fortuna quel brutto periodo l'abbiamo messo alle spalle, oggi guardiamo con più fiducia al futuro, a queste risorse, il PNRR, ai fondi di coesioni, all'FSC. Per quel che riguarda la spesa corrente non abbiamo particolari richieste da fare al governo, sappiamo che è una manovra dove ci sono ristrettezze economiche, non stiamo chiedendo risorse in più, vorremmo mantenere le risorse che abbiamo e risolvere una volta per tutte il tema dei comuni in dissesso e in predissesso. I sindaci uniscono l'Abruzzo, i comuni protagonisti nel PNRR, nella digitalizzazione e nella valorizzazione del territorio. È stato questo il tema conduttore della partecipata riunione. Intanto è la prima assemblea in presenza dopo la pandemia, quindi tutti i sindaci si riuniscono, i sindaci abruzzesi alla presenza del Presidente nazionale in vista dell'Assemblea di Genova, quindi sarà anche propedeutica ad una serie di questioni che si discuteranno a Genova, portando al centro ovviamente una serie di problematiche che riguardano tutti i comuni italiani e alcune specifiche dei comuni dell'Abruzzo, una regione che è costituita per l'85% da piccoli comuni, al di sotto dei 5.000 abitanti e che quindi richiede una serie di interventi finalizzati a riordinare il territorio, a combattere lo spopolamento e a mettere al centro ovviamente il rilancio delle bellezze del nostro patrimonio, ma è anche la regione delle straordinarie opportunità e potenzialità. Le risorse che abbiamo intercettato e che stiamo investendo in Abruzzo, su tutto il territorio abruzzese, anche in reazione alle calamità che abbiamo vissuto, forse più degli altri paesi, costituiscono l'occasione per una strategia di sviluppo del territorio unica, di un Abruzzo che grazie al lavoro congiunto dei sindaci, dell'Anci regionali, Anci Abruzzo, ma anche con il Presidente De Caro, il Commissario Legnini prima e il Commissario Castelli oggi, ci consentono di pensare ad una ricostruzione, ad una rigenerazione dei nostri territori che non è solo fisica, ma è anche economico, sociale e territoriale.